Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video oggi per continuare il nostro viaggio all'interno del libro. Numero 1 si diventa di Ericsson e come sapete è un volume che ho ripreso a studiare. Oggi leggo, perché c'è da leggere per forza, sono quattro paginette scarse, tenete duro, ma oggi scopriamo un principio, un meccanismo del corpo umano che si attiva nel momento in cui stiamo migliorando in qualche campo. Lasciamo la parola al nostro dottor Ericsson. Perché il corpo e il cervello umano hanno questa spiccata capacità di adattamento? Boh, che ne so. Paradossalmente dipende dal fatto che le singole cellule e i tessuti tendono a mantenere il più possibile immutate le loro condizioni. Questa è la premessa generale. Infatti qua spiega, per esempio, quando uno inizia a correre, prima il battito cardiaco del polso è, non so, mettiamo il caso 80, dopo arriverà a 130 durante la corsa, poi dopo, quando riposerà, si ritornerà al battito iniziale. Questo processo è chiamato col termine tecnico omeostasi, cioè la tendenza di un sistema ad agire in modo tale che mantenga la propria stabilità. È proprio questo il punto. Sembra una banalità, perché uno dice, e io lo sapevo già, che il polso aumentava e poi tornava con il riposo. In realtà questo si può sfruttare per migliorare in un campo e alzare praticamente l'asticella. Cioè, se prima riuscivo a fare, non so, 10 km di corsa, ok, senza chissà quali sforzi, dopo, con questo sistema di omeostasi, posso fare molti più chilometri e io posso trovarmi in quella condizione come una condizione di normalità. Cioè, per me fare 20 km diventa normale. E tutti sappiamo che questa cosa è possibile, ma oggi spieghiamo alla perfezione, dal punto di vista biochimico, perché succede sta cosa. Più interessante per noi è il fatto che le cellule richiedano un ambiente stabile per funzionare a dovere. Le cellule dice, oh, non fanno tutti questi cambiamenti, io o io stai in un ambiente tranquillo. Se i tessuti circostanti sono troppo caldi o troppo freddi, se il liquido dei fluidi, insomma, all'interno non sta nei valori ottimali, ne risente il funzionamento delle cellule. Se i cambiamenti sono troppo marcati e durano troppo a lungo, le cellule iniziano addirittura a morire. Pensiamo a cosa succede quando svolgiamo un'attività fisica impegnativa. E qua ci stiamo avvicinando al noccio della questione. Finché l'esercizio fisico non è così faticoso da compromettere i meccanismi omeostatici dell'organismo, non stimola alterazioni fisiche. Cioè, se uno si fa la corsetta intorno al palazzo, non succede niente. Il polso aumenta un po', un po' più di sangue in circolo e finisce lì. La situazione cambia, invece, quando affrontiamo un'attività fisica vigorosa e di lunga durata che spinge il corpo al di là dei limiti entro i quali i meccanismi omeostatici possono compensare lo sforzo. E qua sta tutto il discorso. I sistemi e le cellule del corpo si ritrovano in condizioni anormali, con una carenza di ossigeno e di vari composti che forniscono energia. Il metabolismo delle cellule non può più procedere come di consueto, quindi non c'è più la zona di comfort, no? Quindi in ogni cellula si attivano vari tipi di reazioni biochimiche che generano prodotti biochimici completamente diversi da quelli che la cellula crea di solito. Le cellule non sono soddisfatte di questa alterazione e reagiscono riattivando una serie di geni. I geni attivati accenderanno o potenzieranno vari sistemi biochimici all'interno della cellula che modificheranno il suo comportamento in reazione al fatto che le cellule e i sistemi circostanti sono stati costretti a uscire dalla propria zona di comfort. Quindi se noi ci spingiamo oltre alla consueta attività fisica che facciamo, quindi la solita corsetta, i soliti piegamenti e quant'altro, tutto è già abituato a questo. Motivo per cui spingerci oltre a fare più attività fisica consente e costringe tutto il nostro sistema a trovare una nuova omeostasi, cioè una nuova condizione di stabilità. Supponiamo per esempio di iniziare un programma di esercizio aerobico, mezz'ora di jogging tre volte alla settimana. L'attività protratta nel tempo determinerà, tra le altre cose, un abbassamento del livello di ossigeno nei capillari dei muscoli delle gambe. Il corpo reagirà creando nuovi capillari, addirittura, porca miseria, per fornire più ossigeno alle cellule muscolari delle gambe e farle rientrare nella zona di comfort. Quindi il corpo dice, siccome tu stai correndo di più, alle gambe servono nuovi capillari per appunto ossigenare le cellule muscolari delle gambe che ti permetteranno poi di correre di più. Si modifica in tutto e per tutto il corpo umano. Ecco come il desiderio di omeostasi del corpo può essere sfruttato per stimolare il cambiamento. Oh, finalmente siamo arrivati al punto focale. Mettetelo abbastanza sotto sforzo per un tempo sufficiente e reagirà trasformandosi al fine di alleggerire quello sforzo. Questo, meglio di così, non si poteva spiegare. Sarete diventati un po' più forti, avrete maggiore resistenza e coordinazione. Tuttavia, una volta creati i meccanismi di compensazioni, quindi una volta che siamo abituati pure a quello, nuove fibre muscolari sono cresciute, diventate più efficienti, sono nati nuovi capillari, eccetera. Il corpo è ora in grado di tollerare l'attività fisica che prima lo metteva sotto stress. È di nuovo a suo agio. I cambiamenti si interrompono. Quindi, per continuare a cambiare, bisogna alzare continuamente l'asticella. Correre per più chilometri, aumentare la velocità, correre in salita. E uno si deve fare sempre il culo. Se non lo tenete sempre sotto sforzo, il corpo tornerà in omeostasi, benché a un livello diverso da prima, e smette praticamente di migliorare. Ecco chiarita l'importanza di mantenersi appena fuori dai confini della nostra zona di comfort. Dovete stimolare continuamente il corpo, affinché seguiti a trasformarsi. Ma se vi allontanate troppo dalla zona di comfort, rischiate di farvi male, di peggiorare, anziché migliorare. Quindi, ok, uscite dalla zona di comfort, però non esagerate, non fate la maratona a 40 km. Oggi penso che abbiamo imparato una cosa importantissima. Grazie all'omeostasi, quindi a questa tendenza di mantenere l'equilibrio, una volta che noi usciamo fuori dalla zona di comfort consapevolmente e con equilibrio, l'omeostasi fa sì che noi ci possiamo adattare a questa nuova condizione e ciò ci permetterà poi in futuro di continuare a migliorare e continuare ad adattarci. Continuare a migliorare e continuare ad adattarci. Questo è grazie all'omeostasi e grazie a tutti i motivi biochimici che succedono nel nostro corpo che abbiamo appena letto. Io vi ringrazio per aver visualizzato il video. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un like e commentate. Io vi voglio bene, ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video. Ciao!